Ciao ragazzi, sono Jacopo Consalvi D'Alerici, maestro nazionale di tennis e istruttore di primo grado di beach tennis. Vi mando questo video perché siamo pronti per un vero torneo online. Sarà tutto spiegato nel regolamento. Vado molto molto veloce. 1,50 m dal muro. Prima sfida. Palleggio semplice contro il muro. Seconda sfida. Stoppo, tiro. Stoppo, tiro. Terza sfida. Tutti i punteggi, le modalità del torneo e tutte le info su questa competizione vera, assolutamente e seria, e ben organizzata dalla Joy & Play SD, sono sul primo commento di questo fantastico post. Un abbraccio e I stay home.